prova adesso il numero sedici tentare la conclusione prima occasione del match la creata la lotigiani con il sinistro si sta rendendo pericoloso demo fonti subito per un compagno arriva la parata scalde guantoni giombetti demo fonti ancora demo fonti di prima per il 27 prova il sinistro di nolfo tanto va demo fonti demo fonti prova il sinistro e poi prova in un secondo tempo la conclusione ma attenzione prima azione pericolosa blanco viscovio con il pietro battista che prova il sinistro è lì c'è un contatto in area poi io mi ne stoppa il pallone e trova il gol dell'uno a zero ha segnato io vine il primo gol in questa stagione dell'atletico origiani lo segna io vine calabresi per demo fonti con il sinistro arriva però la chiusura dell'atletico vescovio essa laterale per l'atletico vescovio amici prova ancora amici a liberarsi prova con il destro palla però fuori il cross con il sinistro poi di testa il neon trato marchizza si rende subito pericoloso per gori poi demo fonti di nuovo demo francesco demo fonti prova il neon trato demo fonti prova il destro splendida giocata di demo fonti che fa tutto da solo e segna il gol del raddoppio ha segnato demo fonti per l'atletico vescovio prova il cross poi prova con un'occasione il numero 20 prova agori con il sinistro e attento però giovetti ne può approfittare quindi la lodigiani con michelli c'è il cross palla direttamente in gol e quindi gol di gol di michelli ha segnato la lodigiani con un tiro cross e praticamente triplice fischio i primi reputi stagionali per l'atletico di gianni 3 a 0 il risultato per